Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeone con la trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo. Allora riprendiamo con la seconda parte della trasmissione e continuiamo il discorso che avevamo lasciato 15 giorni fa a proposito del crogiarolo dello Stragone a parlare delle determinazioni. Prima di cominciare e continuare il discorso che avevamo lasciato 15 giorni fa, vi ricordo che sabato alle ore 20 e 30 qui in sala dibattiti di Radio Gamma 5, teremo il dibattito a proposito del crogiarolo dello Stragone relativo all'arte dell'agguato. Il primo dibattito sull'arte dell'agguato l'abbiamo ottenuto mi sembra l'11 novembre, il mese scorso in novembre e in quel dibattito abbiamo sviluppato quelli che sono gli elementi propri dell'arte dell'agguato. Non li abbiamo sviluppati tutti gli elementi, tutti i quadri relativi all'arte dell'agguato, infatti li continueremo domani sera e domani sera andremo anche a dire perché e cosa otteniamo praticando l'agguato. Tutto ciò che io non vi posso dire è cosa comporta la pratica dell'arte dell'agguato, quali sono le trasformazioni soggettive e emozionali che le persone incontrano praticando l'arte dell'agguato, ma posso dare solo tutta una serie di tecniche lasciando alle persone l'uso delle tecniche stesse. Perché? Perché il paganesimo e la stragoneria non sono delle manifestazioni di verità, nel senso che non sono rivelazioni, ma sono delle pratiche attraverso le quali gli uomini vanno ad affrontare la vita. Gli uomini e le donne affrontano in maniera coraggiosa, in maniera determinata, in maniera consapevole la loro esistenza. Il compito della stragoneria non è dire alle persone cosa devono o non devono fare, cosa ottengono o cosa non otterranno, qual è la verità che si raggiunge, ma scopo della stragoneria è fornire alle persone i mezzi, le tecniche per affrontare l'esistenza e modificare se stesse in relazione al mondo che vanno ad affrontare, in relazione alle loro predilezioni, in relazione al loro modo di essere e al loro modo di affrontare l'esistenza. Per cui la stragoneria non è una manifestazione di verità, la stragoneria è una manifestazione di libertà. E la libertà è lo scioglimento dei legamenti dell'uomo alla vita, sciogliere un legamento dopo un altro legamento significa manifestare quell'intento universale, quell'eros, quel fanete che uscirono dal brodo, da quello che fu il primo momento di scoppio, di esplosione dell'universo e che si manifestano dentro ogni essere esistente. Ogni essere esistente per esistere, per manifestare la sua esistenza deve manifestare il proprio intento, manifestando il proprio intento, manifestando il proprio eros, manifestando il proprio fanete, diventa Zeus, diventa l'intelligenza, diventa colui che progetta la propria esistenza. Certo, il progettare la nostra esistenza è dato dai limiti, i limiti di cui parliamo questa sera, andando avanti col discorso su determinazioni, i limiti sono ciò che siamo, ciò che è il divenuto della nostra specie, ciò che manifesta in noi stessi, non esistono dei limiti, non esistono una libertà infinita, una libertà assoluta, non esiste la manifestazione della fantasia o dell'illusione o dell'auto-identificazione con l'assoluto, ma esiste la manifestazione del soggetto che pratica e manifesta se stesso in base al proprio divenuto nella società in cui vive e nel far questo getta le basi per fondare il futuro. Nel dibattito di sabato, 18 dicembre, parleremo dell'arte dell'agguato, degli elementi e del perché nella vita quotidiana pratichiamo l'arte dell'agguato. Ebbene, quel tipo di pratica va a concludere il ciclo degli individui all'interno della natura, va a concludere quel processo attraverso il quale noi passiamo dal mondo della ragione, dal mondo della quotidianità, ritorniamo ad essere membri, ad essere soggetti della natura che agiscono in funzione della natura. L'arte dell'agguato ci riporta a concludere quello che è stato il ciclo dei dieci dibattiti. E sabato, 18 dicembre, riprendiamo il discorso sull'arte dell'agguato. Pesanto l'appuntamento è a Radio Gamma 5, in via Belzoni 9, alle ore 20 e 30. Ricordo altresì a tutti i partecipanti che, finito il dibattito, ci ritroviamo tutti in pizzeria e vi ricordo che, essendo il sostizio d'inverno, come minimo, offriremo da bere e da mangiare agli dei che si fermeranno a mangiare e a bere con noi. È un antichissimo rito, è un'antichissima ritualità che veniva fatta sia nella Grecia antica, sia in Roma antica, veniva fatta nell'Egitto e veniva praticata in tutta l'area mediterranea e l'abbiamo ripresa, proprio per celebrare il sostizio d'inverno. Bene, riprendiamo la trasmissione sulle determinazioni. Il mondo nel quale nasciamo, riprendo da qui, gli esseri della natura nascono in un mondo, gli esseri espandono se stessi in un mondo che si espande. Ecco, già qui cominciamo a dire che il nascere è il venire in essere, è prendere coscienza della propria esistenza, cioè io sono. E nel momento stesso in cui io prendo coscienza della mia esistenza, metto in atto delle strategie per vivere al meglio nel mondo in cui io sono nato. Il dire io sono, io esisto, non appartiene al pensiero della ragione, cioè non c'è il ragionamento che dice io sono, io esisto, ma c'è nelle azioni. Per esempio, il feto in pancia della nostra madre o l'ovulo che viene fecondato dallo spermatozoo, in quello stesso momento dice io sono, io esisto. Ma non perché lo pensa attraverso le parole, ma perché mette in essere delle azioni finalizzate ad espandere se stesso. Azioni che sono proprie del suo divenuto, cioè del suo essere fecondato da uno spermatozoo e un ovulo. C'è un nome, se non mi ricordo più come sia. Comunque, in quel momento che vengono messe in atto le attività di espansione, il soggetto ha riconosciuto di essere se stesso diverso dall'insieme. E questo ce lo dobbiamo sempre ricordare, perché il pensiero astratto non è quello che noi siamo abituati ad usare, a pensare, cioè io penso con un ciclo di parole che recitano continuamente o descrivono continuamente il mondo. Ma io riconosco me stesso quando metto in essere delle azioni per espandere me stesso nel mondo in cui metto in essere quelle azioni. Chiunque mette in essere delle azioni per espandere se stesso all'interno del mondo ha riconosciuto se stesso come soggetto che sta crescendo. Riuscire a capire questo concetto, che dal punto di vista del paganismo è semplice, è uno dei concetti più rivoluzionari di quello che è la filosofia pagana, il modo pagano di vedere e riconoscere la vita. Cioè, la vita non viene riconosciuta mediante la ragione, non è la ragione o il pensiero pensato attraverso delle parole che vengono recitate che mi permette di riconoscere me stesso, ma sono le azioni che metto in essere attraverso le quali sviluppare e manifestare me stesso. E vedremo come noi riconosciamo tutti gli esseri uguali a noi stessi proprio nel momento in cui riconosciamo che questi esseri stanno mettendo in atto delle azioni per espandere se stessi. Cioè, noi riconosciamo gli dèi, noi riconosciamo i soggetti del mondo come dei soggetti che progettano se stessi nel mondo in cui vivono proprio dalle azioni che mettono in atto. Pertanto, il riconoscere se stessi diversi dal circostante, cioè riconoscere se stessi come un'unità che manifesta la propria volontà non è determinata dal pensiero pensato, cioè da un insieme di parole che descrivono gli oggetti del mondo ma è determinato dalle azioni che io metto in essere, che io o un oggetto metto in essere per sviluppare se stesso nel mondo in cui è nato. Allora, noi abbiamo un oggetto che in questo momento riconosciamo più importante del pensiero pensato cioè della razionalità, cioè della descrizione del mondo ed è l'azione. È dall'azione che un soggetto mette in essere nella sua quotidianità, nel suo esistere che io riconosco che quell'oggetto ha una struttura pensante, ha una struttura divina ha un centro attraverso il quale riconosce se stesso diverso dal mondo ha un pensiero astratto. Le azioni mi portano a comprendere l'oggetto che le metto in essere non il pensiero pensato, l'insieme di parole che recitano come è fatto o non è fatto il mondo quello appartiene alla mia ragione, alla mia ragione come specie non appartiene alla vita, la vita si riconosce dalle azioni che mette in essere le azioni che la vita mette in essere possono produrre degli esseri, degli individui degli esseri umani in questo caso, che manifestano un pensiero pensato che va a descrivere il mondo ma è la vita che produce esseri che hanno un pensiero pensato e che descrivono il mondo non è il pensiero pensato che descrive il mondo che produce la vita è chiaro questo? Pertanto, riconosciamo l'importanza dell'azione, l'importanza della manifestazione di un soggetto nel mondo in cui esprime se stesso come prioritaria e fondante rispetto al pensiero pensato che descrive il mondo il pensiero pensato che descrive il mondo è diventata negli ultimi 13-14 mila anni una caratteristica degli esseri umani vedremo un giorno come questa caratteristica arriverà ad incidere sugli esseri umani però diciamo che la vita che si manifesta mediante le azioni ha prodotto degli esseri, in questo caso esseri umani, che manifestano il pensiero pensato pertanto, dobbiamo considerare l'essere qualunque essere che nasce noi come pagani usiamo il termine l'essere per indicare ogni soggetto ogni unità che riconosce se stessa diversa e circostante e mette in atto azioni per espandersi il termine l'essere noi non lo usiamo come pagani per identificare il soggetto assoluto dell'universo eccetera eccetera come spesso viene usato da alcune strutture monoteiste noi usiamo l'essere per definire il soggetto che manifesta se stesso per cui possiamo usare l'essere albero, l'essere virus, l'essere Claudio, l'essere Francesco oppure l'essere filo d'erba, l'essere rododendro cioè tutti i soggetti sono degli esseri che manifestano se stessi nell'oggettività dobbiamo considerare l'essere qualunque essere che nasce due, dobbiamo considerare il mondo come insieme in cui gli esseri nascono e dobbiamo considerare al punto 3 l'espansione e la crescita come relazione reciproca del singolo essere nato nella natura e il mondo queste tre unità noi come pagani le consideriamo dei soggetti pensanti dei soggetti propositivi, dei soggetti agenti soggetti portatori di nus, portatori di intelligenza, portatori di progetto non consideriamo l'essere umano qualcosa di diverso dagli altri esseri della natura che non siano umani ma consideriamo l'essere umano uno dei tanti soggetti che è all'interno della natura una specie che è divenuta nella natura sempre per adattamento soggettivo alle variabili oggettive che è incontrato nel corso della propria esistenza gli strumenti della specie noi siamo esseri della natura gli strumenti di cui siamo forniti sono propri dell'essere natura noi siamo esseri umani gli strumenti di cui siamo forniti sono propri della razza umana noi siamo esseri umani del 2003 gli strumenti di cui siamo forniti sono propri della specie umana del 2003 noi siamo esseri umani in un paese europeo che presenta la sua cultura divenuta per trasformazione e adattamento gli strumenti di cui siamo forniti sono propri di quella cultura allora se noi facciamo un'analisi di quello che ho messo giù di questi quattro elementi che ho messo giù vediamo che ogni situazione che abbiamo elencato è archetipa della situazione che la segue cioè noi siamo esseri della natura per cui significa che dentro di noi agiscono e si muovono tutti gli elementi propri degli esseri animali della natura quando dico noi siamo esseri umani e gli strumenti di cui siamo forniti sono propri della razza umana significa che agli elementi archetipici della natura abbiamo sovrapposto abbiamo sedimentato sopra delle specificità proprie della nostra specie cioè a quello che appartiene all'insieme dell'essere natura abbiamo messo sopra delle specificità quando dico noi siamo esseri umani del 2003 gli strumenti di cui siamo forniti sono propri della razza umana dell'anno 2003 significa che agli elementi archetipici della natura dai quali abbiamo sovrapposto sopra gli elementi archetipici della specie umana abbiamo sovrapposto gli elementi della specie umana dell'essere umano proprio del 2003 del 2004 quando dico noi siamo esseri umani un paese europeo che presenta la sua cultura divenuta per trasformazione e adattamento significa che a quegli elementi dell'essere umano del 2003 abbiamo sovrapposto gli elementi culturali e gli adattamenti che i soggetti hanno messo in atto propri della cultura dei paesi europei per cui ha una struttura archetipica archetipica che è alla base di quella che è l'essere umano in quanto essere della natura si sono stratificati tutta una serie di elementi che ci portano a qualificare noi stessi come esseri umani proprio di questo secolo proprio di questa situazione proprio di questa epoca proprio di questo momento e di questa cultura la specie a cui apparteniamo ci fornisce gli strumenti con i quali affrontare il mondo ma il mondo modifica e costringe lo strumento ad adattarsi ad esso cioè la struttura archetipica che è propria dell'essere umano quando l'essere umano nasce incontra un mondo che gli invia tutta una serie di fenomeni tutta una serie di sollecitazioni e chiede a questa struttura di sedimentare e di sovrapporre quelli che sono i suoi adattamenti alle sollecitazioni ai fenomeni che dal mondo arrivano verso il nuovo nato quale mondo? quello nel quale nasciamo ed è importante perché la struttura che ha il bambino che ha il feto in pancia della madre è una struttura divenuta dalla specie e in potenza può prendere molte specificità cioè è pronta per affrontare molte situazioni cioè il bambino nasce ed è pronto ad affrontare la situazione in Italia come è pronto ad affrontare la situazione in Uganda se non sai il feto cosa incontrerà una volta nato ma una volta nato arrivano verso il bambino tutta una serie di fenomeni e tutta una serie di sollecitazioni per cui la struttura emozionale del bambino viene a modificarsi e adattarsi rispetto ai fenomeni che del mondo giungono a lui ed è importantissimo che noi mettiamo a fuoco questo sistema questo sistema di crescita questo sistema di divenire dell'essere umano perché è l'unico sistema che ci dà la spiegazione perché un essere umano è in un certo modo e un altro essere umano è in un altro modo non è che il pazzo criminale del Dio padrone dei cristiani ha creato l'essere umano in un modo e ne ha creato uno così e un altro colà ma è che semplicemente ha una struttura che è divenuta in una certa pancia della madre che ha preso gli effetti dal padre è venuta a costruirsi adattandosi a un ambiente in cui è venuto il mondo un ambiente che è caratterizzato dalle tipologie soggettive dei genitori è caratterizzato dall'ambiente parentale è caratterizzato anche dall'ambiente non umano è caratterizzato da tutta una serie di fenomeni essenzialmente che giungono al nuovo nato e che chiedono al nuovo nato di adattarsi attenzione è importantissimo che noi parliamo di fenomeni che giungono al nuovo nato e non di attività dei genitori attività dei nonni attività della scuola eccetera perché perché la scuola i genitori o una persona è un soggetto complesso cioè è capace di emettere in una frazione di secondo decine decine di fenomeni diversi il nuovo nato di quei fenomeni fa una cernita punta l'attenzione su alcuni fenomeni e non su altri costruisce le sue strategie di adattamento su alcuni fenomeni e non su altri e quelle strategie di adattamento sono funzionali la sua capacità di percepire di recepire i fenomeni di mettere in atto strategie di risposta e di incontrare nuovi fenomeni che gli arrivano grazie alle sue strategie di risposta che ha messo in atto cioè questo processo di azione e adattamento e reazione è un processo che arriva immediatamente come lo spermatozoo ha messo ha fecondato l'ovulo o l'ovulo si è fatto fecondare dallo spermatozoo perché c'è anche questa da mettere in conto cioè praticamente da quell'istante comincia tutto quel processo di adattamento soggettivo alle variabili oggettive che vanno a costruire il futuro individuo dove la pancia della madre non è altro che un universo emozionale nel quale il feto mette in atto le sue azioni mette in atto i suoi adattamenti mette in atto le sue strategie di esistenza per tanto il feto non nasce tabula rasa non esiste né bambino né ovulo né spermatozoo che siano tabula rasa hanno tutte le memorie hanno la memoria della specie hanno le strategie che gli strumenti che la specie hanno dato a ciò che produrrà il futuro però nel momento stesso in cui ciò che diverrà il futuro nasce riconosce se stesso in quello stesso momento inizia il processo di trasformazione soggettiva a tutti i fenomeni che incontra e le variabili ai fenomeni che incontra il soggetto fin dal momento stesso in cui l'ovulo viene fecondato sono infinite per cui noi abbiamo un processo di trasformazione infinito che appartiene al singolo individuo e quel processo di trasformazione potremmo dire che va in atto nel momento stesso in cui l'ovulo e lo spermatozoo vengono fecondate o si autofecondano fino alla morte del corpo fisico non esiste un istante in cui non ci sia il processo di trasformazione e questo riconoscere cioè riconoscere questo processo e questi meccanismi è il fondamento di tutta la stregoneria antica e moderna è il segreto fondamentale della stregoneria non esiste un istante dell'esistenza in cui non ci sia una trasformazione non esiste un istante dell'esistenza in cui non si possa subire una trasformazione non esiste un istante della propria esistenza che sia garantito o assoluto ma tutto dipende dalla relazione dialettica fra il soggetto e i fenomeni del mondo e la sua capacità di adattamento ad essi e da questo assoluto da queste affermazioni che è praticamente assoluta che è alla base di tutto la si può riempire di milioni di contenuti però questa affermazione in sintesi è la base di tutta la stregoneria il mondo nel quale nasciamo il mondo sociale attraverso la sua struttura culturale è quello che più immediatamente costringe gli strumenti di cui la specie ci ha fornito ad adattarsi ad adeguarsi e specializzarsi una volta nascevamo come esseri della natura nella natura e i fenomeni che i nostri nonni nati nella natura ricevevano e ai quali costruivano le loro strategie di adattamento erano fenomeni provenienti direttamente dalla natura oggi assistiamo a una situazione abbastanza particolare il bambino nel me già ne appange la madre costruisce le sue strategie di adattamento per cui c'è tutte le sue trasformazioni ma prendiamo in esame un aspetto particolare già dal secondo anno di età comincia a guardare la televisione forse anche dal primo anno di età comincia a guardare la televisione per cui molti dei suoi processi di adattamento soggettivo avvengono sui fenomeni che gli arrivano dalla televisione non c'è nulla è più squallido che costruire un individuo un soggetto che dovrebbe essere agente che dovrebbe essere un agente propositivo un agente funzionale un soggetto che costruisce le strategie della sua esistenza nella vita reale che avere un soggetto che ha costruito le proprie strategie di esistenza su una vita virtuale è qualcosa di allucinante significa che le sue emozioni vengono stuprate vengono piegate a quella che è la ficzione la ficzione viene calata al bambino come una realtà che chiede adattamento soggettivo alle variabili oggettive a se stessa e questo è una cosa molto grossa perché implica una responsabilità infinitamente più alta dei genitori allora se fino a tot anni fa i fenomeni a cui il soggetto il bambino si adattava erano fenomeni che provengono dalla natura oppure fenomeni che provengono dal sistema sociale oggi abbiamo un'altra situazione ancora proviamo il mondo sociale attraverso la sua struttura culturale quello che più immediatamente costringe gli strumenti di cui la specie ci ha fornito ad adattarsi ad adeguarsi e specializzarsi pertanto quello che era lo strumento attraverso il quale un bambino affrontava la savana riceveva dei fenomeni della savana questo strumento oggi come oggi costruisce le strategie di adattamento al bambino rispetto a dei fenomeni che provengono dalla televisione rifletteteci un attimino su questo proviamo ad elencare alcuni di questi strumenti che riconosciamo come parte di noi ogni soggetto ha degli strumenti proviamo un po' elencarli la psiche tensioni varie bisogni vari emozioni mani occhi sesso gusto piacere gioia olfatto piedi orecchie vista rabbia stomaco odio un bel miscuglio di cose no? potremmo continuare per parecchio sia raggruppandole per categorie sia elencandole una ad una spero di aver fatto abbastanza casino in ognuna di queste cose sia che pensiate di usarla come le mani sia che la proviate come le emozioni siete sempre voi stessi con tutto il vostro essere ebbene queste sono le determinazioni ogni qual volta si agisce o si subisce un'azione anche su una sola di queste cose l'intero individuo si modifica e tende ad adattarsi che può essere come adattamento un risultato di ampliamento dell'individuo come può essere un rattrappimento dell'individuo o una diversa organizzazione interna dell'individuo stesso da cui se ne deduce che dati gli strumenti iniziali di cui la specie ha fornito un individuo l'individuo è il risultato degli adattamenti che ha messo in atto per rispondere alle solicitazioni del mondo io sono il risultato delle mie scelte tutti i processi di psicosomatizzazione e di manipolazione psichico-emozionale degli individui altro non sono che il prodotto di questa relazione il soggetto che cresce in un'oggettività adattandosi una relazione vissuta passivamente e inconsapevolmente noi siamo inconsapevoli come esseri umani dell'immenso che ci circonda noi reagiamo a dei fenomeni di cui non conosciamo gli oggetti che li hanno prodotti noi ci adattiamo rispetto a delle cose che non sappiamo nemmeno che cosa siano e troppo spesso le persone vengono invitate a pregare per essere costrette a supplicare l'intervento del Dio padrone parliamo del concetto di umiltà che cos'è il concetto di umiltà in stragonaria da qui nasce il concetto di umiltà proprio del paganesimo politeista e della stragonaria in cosa consiste l'umiltà della stragonaria nella domanda che l'individuo che percorre quel sentiero si pone sono sufficientemente attrezzato per affrontare il mondo in cui vivo sono in grado di far fronte ai fenomeni che improvvisamente si presentano le mie determinazioni sono sufficientemente ricche di esperienza e di adattamento per fronteggiare quanto incontro l'umiltà dello stregone non consiste nel sottomettersi a qualche cosa nell'essere prostrato l'umiltà dello stregone consiste nel rispetto per l'immenso del mondo e manifesta questo rispetto affinando la sua abilità le sue capacità e rafforzando gli strumenti di cui si serve per prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita l'umiltà dello stregone consiste nel riconoscere se stesso inserito in un immenso nel quale deve adattarsi e trasformarsi l'umiltà dello stregone è quello di riconoscere se stesso come un dio in un mondo di dei gli esseri della natura possono variare la specie a cui appartengono l'evoluzione delle specie ne è un esempio vedi le sottospecie di esseri animali quali adattamento soggettivo a diverse condizioni oggettive incontrate la volontà di adattarsi manifestata da un soggetto all'interno della necessità di farlo date diverse condizioni oggettive modifica l'attrezzatura che quella specie fornisce al nuovo nato per consentire di espandersi in oggettività diverse un esempio molto lampante di questo lo abbiamo per esempio nel collo delle giraffe quando le piante a fusto basso a erba bassa sparirono c'erano solo piante a foglie alte chi aveva il collo più lungo riuscì a crescere e questo crescere fu trasferito anche ai nuovi nati i nuovi nati furono forniti di un collo lungo che permetteva loro di cibarsi meglio pertanto questa nuova determinazione il collo lungo è entrato a far parte di quella che è la specie delle giraffe tanto più è specializzata una specie complessa la specie a cui l'individuo appartiene tanto minori saranno le variabili introdotte dal singolo come variazioni della specie stessa e questo è un riconoscimento della realtà dell'essere natura nel suo insieme in pratica ci sono degli esseri che variano velocissimamente e sono i batteri i virus sono degli esseri che variano molto più lentamente sono gli esseri umani per esempio i mammiferi in generale eppure tutti loro ogni individuo che nasce nella singola specie porta delle variazioni porta un arricchimento nella specie stessa se è vero che i virus e i batteri variano molto velocemente rispetto ai mammiferi hanno tempi di trasformazione molto più corti i mammiferi hanno tempi di trasformazione molto più lunghi ciò nonostante come ogni singolo essere batterio può variare l'intera specie dei batteri cui appartiene così un essere umano o così degli esseri mammiferi possono apportare delle variazioni significative all'interno della specie anche se le variazioni più significative all'interno della specie umana noi le abbiamo a livello psichico e a livello emozionale perché molte cose noi le paghiamo e le subiamo a livello emozionale cioè la liberazione e quello che è la struttura emozionale all'interno della specie umana provoca uno sviluppo un salto evolutivo che è pari a quello che fanno i virus quando il virus dell'HIV si inventa di mascherarsi con un frammento di DNA per far fessa una cellula quell'invenzione di cui il virus HIV può corrispondere a quando la specie umana condanna il dio padrone dei cristiani e decide di liberarsi dai fardelli della sottomissione grosso modo siamo a quei livelli bene io per oggi quel crogiolo dello stregone mi fermo qui oggi ne abbiamo 16 12 04 mi fermo qui e continuiamo il prossimo giovedì andando avanti nel frattempo visto che ormai la trasmissione volge il termine ci prendiamo qualche notiziola giornalistica anche di quelle che ho accennato oggi visto che sembra che nessuno ormai parli di certe notizie e certe notizie sono relegate sul fondo dei giornali oggi mi è capitato di vedere il mattino di Padova che titolava in modo idiota il crocefisso resta senza aver capito un cavolo di cosa significa la sentenza della corte costituzionale o una dichiarazione di buttiglione che dice grazie alta corte come non sanno niente di come funzionano le istituzioni non sanno nulla di quello che è il carattere istituzionale ciò che è la vita civile però sparano cazzate su cazzate che hanno un solo scopo quello di annebbiare la capacità degli uomini di andare a verificare le cose per ciò che sono e naturalmente nel far questo cercano di impedire agli uomini di vedere le implicazioni di ciò che succede intanto prendiamoci degli articoli intanto nel frattempo potrei anche accendere i telefoni intanto una decina di minuti circa vi ricordo i numeri di telefono è 049 700 700 e 049 838 700 838 e niente qui c'è una notizia di salute di Repubblica ed è il 14 ottobre 2004 e secondo una ricerca il cervello ha la capacità di produrre morfina ma questa notizia che è data oggi come ricerca ricercatore dell'università tedesca Martin Lutero Hall dell'università tedesca Martin Lutero Hall Wittenberg guidati da Menhardt Zenk hanno osservato senza obbligo che le cellule cerebrali umane hanno sintetizzato in provetta tracce evidenti di morfina questo l'abbiamo sempre saputo cioè nel senso che sono 20 anni che io ho questa notizia cioè che il cervello la capacità cerebrale ha la capacità di emettere tutta una serie di sostanze anche uguali alle allucinogeni tipo simil simil mescalina per esempio che hanno proprio la capacità di alterare quella che è la capacità percettiva degli individui pronto ciao Claudio sono Adriano ciao dimmi ciao niente anzitutto mi complimento per il discorso che hai fatto questo pomeriggio sul fatto del drago dell'acqua quello di Francesco non era il mio scusa è molto bello quel discorso lì comunque perché io non capisco sinceramente questo accanirsi dei cattolici contro i bambini cioè il fatto di battezzare un bambino che lui manco sa ne ancora dei suoi atti insomma e questi devono fargli il battesimo anch'io personalmente sono stato battezzato ma mica l'ho voluto cioè questa per me è un'estrema contraddizione proprio che non riesco a spiegarmi indubbiamente come? indubbiamente sì certo e poi volevo sapere secondo te diciamo qual è la differenza sostanziale fra paganesimo e ateismo perché conosco diverse persone io forse mi posso mettere dentro queste che hanno dei dubbi sul fatto di essere atei o pagani cioè per me è abbastanza un se sono delle di convergenza ma se ci sono anche delle differenze se puoi velocidarmi ti ringrazio va bene auguro buona ciao anche a te auguri allora diciamo questo rispetto all'ateismo moderno e al paganesimo le differenze sono abbastanza sostanziali nel senso che l'ateismo è di derivazione monoteista cioè l'ateismo praticamente viene fuori dalle lotte positiviste illuministe del 1800 e ha come suo centro la negazione del teos nega il dio padrone nega il dio creatore c'è stato un un equivoco da parte dell'ateismo che dice alcune correnti che neghiamo tutte le religioni e dimenticandosi che una religione è fatta da una sostanza cioè è fatta da delle proposizioni che hanno una una descrizione di quello che è il mondo purtroppo l'ateismo quando è nato nel 1800 conosceva una sola religione cioè conosceva solo il monoteismo come religione e la religione per l'ateismo era il cristianesimo era i musulmani era tutto ciò che aveva il dio creatore al suo centro il paganesimo nega qualsiasi forma di dio creatore nega qualunque forma di verità rivelata e a differenza dell'ateismo dice che l'uomo appartiene alla natura ma è legato alla natura da rapporti divini cioè le relazioni che l'uomo ha con tutti i soggetti della vita con tutto ciò che è esistente sono dei rapporti fra divini cioè praticamente il paganesimo riconosce che dio non è un soggetto unico creatore del mondo ma dio è ogni soggetto che si esprime nella quotidianità e nell'esistenza apparentemente le cose non non è che siano diverse apparentemente sia che tu dici che tutto è materia sia che tu dici che tutto è divino essendo tutto divino o tutto materia non cambi la relazione fra gli oggetti in realtà ciò che cambia sono le strategie rispetto alla quotidianità cioè se il mio modo di esistere è ateo ateo di derivazione cristiana cioè che nega il teos che nega il dio cristiano comunque i principi che io applico nella mia vita sono principi cristiani perché non esiste nessuna altra struttura religiosa da cui derivano i principi morali che vengono applicati se io dico che tutto è divino e ho relazioni divine e do relazioni fra espansione dei soggetti che si espandono a quel punto le mie strategie di esistenza e i miei principi morali sono diversi perché sono funzionali e sono legati alla mia necessità di espansione cioè mentre l'ateismo nega sì il dio dei cristiani nega sì il dominio della religione il dominio clericale però fa propri i principi lo so tipo di carità tipo principi di solidarietà tipo tutta una serie di principi che sono comunque di derivazione cristiana il paganesimo nega questo non è che il paganesimo neghi la solidarietà neghi l'aiuto agli altri semplicemente dice sì mi posso aiutarti ma prima di tutto devo rimuovere le cause che portano a allora io sì posso aiutare chi sta male ma essenzialmente devo rimuovere le cause che producono chi sta male per cui considerare che l'esistenza in cui noi siamo è un'esistenza divina significa costruire delle relazioni diverse fra noi e la vita tutto là dopodiché chiaramente l'ateismo l'ateismo moderno che è di derivazione ottocentesca cioè fine 1700 con l'illuminismo e via via conosceva una sola religione cioè il monoteismo vabbè l'islam eccetera però per noi è una sola religione e da quello diceva che la religione è l'oppio dei popoli ma perché quella era l'unica conoscenza che aveva di religione infatti quando gli atei pensano agli dei pagani pensano agli dei pagani non come i pagani pensano ai loro dei ma pensano agli dei pagani come i cristiani gli hanno insegnato che siano gli dei pagani praticamente una brutta coppia dei dio dei cristiani intanto per essere chiaro io chiudo qui la trasmissione Magia Stragoneria Paganesimo e vi do appuntamento per giovedì prossimo sempre con la trasmissione normale più andremo avanti con il crocello dello Stragone ciao a tutti vado immediatamente con la pubblicità perché dopo la sera Stefano ciao ciao a tutti i nostri spettatori ciao a tutti i nostri spettatori